il principe adepto sta per andare in onda partiti in vantaggio vancook davanti a vedelago l'orciapara al passaggio e principe adepto in vantaggio vancook davanti a passaggio vedelago l'orciapara al principe adepto all'inizio della curva posizioni invariate con vancook in vantaggio attaccato ora sorpassato da passaggio seguono vedelago, principe adepto e l'orciapara al poco prima dell'ingresso in dirittura allunga passaggio davanti a vancook, vedelago e principe adepto i cavalli entrano in dirittura con passaggio in vantaggio davanti a vancook, vedelago, l'orciapara al principe adepto e sempre in vantaggio passaggio davanti a vedelago, l'orciapara al principe adepto e vancook in vantaggio passaggio davanti a vedelago, principe adepto, l'orciapara al centropista e vancook passa principe adepto davanti a vedelago, passaggio e l'orciapara in vantaggio principe adepto davanti a vedelago e passaggio conduce principe adepto davanti a vedelago grazie a tutti 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 grazie a tutti